Buonasera signore, intervista del migliore in campo, Bozzella Marco, dei Lina Rock, partita appena terminata contro il Real Tunisiana ma avete perso, come mai secondo te? Perché ti stavo sceltenendo? Rolette però Castro Diciamo così, diciamo che è stato un errore di comprendere la squadra, oggi non è entrato in campo preparato purtroppo ho fatto quello che potevo fare, mi dispiace Sì, ho visto un primo tempo spettacolare, ho fatto certe parate assurde, era nazionale Sono stati bravi loro, che hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto, ci dispiace, speriamo di passare lo stesso Senti, siete sempre, quanto ho capito, ancora primi in classifica No, non dobbiamo vedere l'altra partita No, 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 siamo secondi, è che la Tunisiana è la seconda Ah, la Tunisiana è la solo di scavalcato e quindi adesso vi gioca, è tutta l'ultima giornata Noi speriamo, speriamo di vincere Diciamo che doveste fare, diciamo, l'ultimo passo, l'ultima giornata per arrivare ai primi perché è importante, ricordiamo che i primi arrivano attenti in semifinale Marco, ci vuoi ringraziare qualcuno? Vuoi ringraziare tutti, voglio saluto alla mia ragazza, un bacio Complimenti, ciao, ciao